Ciao a tutti amici e amiche, eccoci qui naturalmente a parlare della diciassettesima giornata della serie A femminile B, che si è giornata in turno infrasettimanale, infatti tra martedì San Valentino e la giornata dei single. Una giornata che ha dato praticamente gli ultimi verdetti naturalmente di questa regola season, ma andiamo con ordine naturalmente iniziando dall'anticipo di martedì Grasso, che è quello tra la Roma e il Sassuolo, la squadra di Piovani bastava un punto, il punto però non è arrivato, la Roma vince per 3 a 0 grazie a una tripletta di Valentina Giacinti che raggiunge anche i 200 gol in serie A, veramente complimenti. All'ottavo su calcio di rigore, all'undicesimo poi il raddoppio e al cinquantaduesimo il terzo gol che dà anche il Nike Flight Ball e naturalmente anche il premio MVP, naturalmente da parte della Lega. A Piovani non arriva praticamente a questo punto, però è già nella pole scudetto, perché è arrivato proprio nel giorno di San Valentino, le due avversarie Sampdor e Como hanno entrambe perso. La Samp con Milan per 3 a 1 in rimonta, vantaggio con Tarenzi, sottoporta batte Giuliani, poi al trentunesimo Ciantedoping pareggia, al cinquantatresimo il raddoppio di Sofia Rubio con complicità di Tampieri, peccato perché visto che è stata convocata anche in nazionale dopo lo vediamo, e al cinquantatresimo ancora Ciantedoping per il gol del 3 a 1 che dà praticamente i tre punti al Milan che va a 18 punti e toglie e elimina e dà anche la pole salvezza al Sampdoria di Mango, proprio in virtù di questa sconfitta. Un bel buttino, naturalmente il Milan si porta nella pole salvezza. Vince anche la viola, infatti anche l'altro rivale, come perde contro la Fiorentina per 1 a 0, decide il 72esimo. Naturalmente, vero bocchetta. Ah, mi sono dimenticato di dirvi, naturalmente, Ciantedoping. MVP, naturalmente, in Sampdoria-Mila e, vero bocchetta, MVP in Como-Fiorentina. E quindi, Como-Sampdoria, con queste sconfitte, naturalmente, vanno automaticamente in pole salvezza. La Fiorentina si prende il secondo posto, ma non ha fatto i conti col derby d'Italia, perché la Juventus vince il derby d'Italia, banca l'arena civica, per 2 a 0, grazie alla doppietta della nigeriana Joe Ekegini al settimo e al quattordicesimo del primo tempo, naturalmente premiata con l'MVP. Quindi, va davanti, naturalmente, ancora la Juventus in classifica sulla Fiorentina. Era, naturalmente, il posticipo scelto dalla Rai, il derby del Vesuvio tra Napoli e Pomigliano e arriva, finalmente, naturalmente, la vittoria per la squadra di Seno. Vince per 2 a 0 con il gol di Dele Stalle al ventottesimo e al trentaduesimo di Marino. Prima vittoria del Napoli, che conferma la sua crescita rispetto al Pomigliano di Andrea Caruso, veramente in crollo. Andiamo a vedere un po' anche i tiri totali, 6 a 5. Comunque, è stata una partita veramente combattuta, possiamo dire. E, naturalmente, andiamo a vedere. Elisa Dele Stà è stata premiata con l'MVP. Andiamo, quindi, a vedere la classifica, naturalmente. Roma, 48 punti. Roma, 48 punti. Juventus, 40. Poi, la Fiorentina, meno 1 con 39. Inter, 36. Sassuolo, 23. Queste vanno nella Pol Scudetto. Poi, Milan, 18. Como, Sampdoria, anche loro a 18. Vanno nella Pol Salvesa, insieme a Napoli e Pomigliano, che è rispettivamente a 6 punti. Insomma, sembra, ormai, certo, la condanna di Napoli-Pomigliano. Ma, attenzione, Napoli potrebbe fare lo sparo in parte in questa lotta per la Salvesa, perché è in crescita. Andiamo a vedere il prossimo turno. Facciamo subito anche l'anteprima, perché tanto si gioca domani. Quindi, i giochi sono fatti, se vogliamo dirla tutta, a parte il secondo posto. Quindi, si giocherà soprattutto per punti nelle altre partite. Sassuolo-Sampdoria, alle 12.30. Launch match, nettamente in vantaggio il Sassuolo, sinceramente, su questa sfida. Poi, Fiorentina-Roma, direi, pareggio alle 15, naturalmente. Poi, domenica 18 febbraio, alle 12.30. Launch match tra Juventus-Napoli, nettamente favorita la Juventus sul Napoli. Diciamoci la verità. Poi, alle 15.00, Pomigliano-Como. Qui, veramente, direi che potrebbe vincere la squadra di Bruzzano. Poi, alle 17.00, i derby della Madonina-Milan-Inter. E, naturalmente, sarà la scelta della Rai. E qui, vedo, forse, un Milan che potrebbe prendersi i derby sull'Inter. Di solito, i derby è una partita a sé e non vince sempre la squadra. più forte. Andiamo a chiudere questo video parlando, naturalmente, della Nazionale. Perché sono state diramate le convocazioni di Andrea Succini per le partite con l'Irlanda, il 23, al Viola Park. E il 27, contro l'Inghilterra in Spagna. Non ci sono tornei quest'anno, perché proprio c'è la Nations League, c'è la fase a re-le-promozione, re-legas e retrocessione. E quindi, naturalmente, la GAR Cup e tutti questi tornei verranno fatti nel 2025, prima di Euro 2025. È l'unico torneo che si gioca. e la Sheberis Cup, ma non ci sono Juventus, Stati Uniti, Brasile, Giappone, a giocarla. E il Canada. Andiamo a vedere le convocate, naturalmente, di Succini. Poi, Baldi, Giuliani, Schofenegger, sempre loro. Poi, Tampieri è la novità della Sampdoria. Poi, le difessore sono Bartoli, Bergamaschi. Boatin, Derita, dalla Sampdoria. Di Guglielmo, Gama, ritorno di Saragama. Lenzini, Linari. Olivero, sempre dalla Sampdoria. Piga, dal Milan. E torna in nazionale la franco-italiana, dopo essere stata convocata Milena Bertolini, prima dei mondiali. Poi, Salvai. Centocampiste. Caoruso, Dragoni, Galli, Giuliano. Greggi. Schatzzer. Eva Schatzzer, la promettente giocatrice della Juventus, Severini. Poi, le attaccanti. Il ritorno di Bonasai e Girelli. Naturalmente, poi, Bonfantini, Cabiaghi, Cantore, Cantena. Gheon, Piemonte, che sta facendo molto bene all'Everton. E Serturini. Quindi, queste sono le convocate. Niente da dire. Sono due test match. Naturalmente, il più difficile è quello contro l'Inghitelli di Sarina Wigman. Però, naturalmente, importanti per... In vista, naturalmente, dell'European Qualifiers che partirà ad aprile, ma il 5 marzo, ricordiamo, c'è il sorteggio degli European Qualifiers. E parleremo di questi European Qualifiers perché non sono come quelli passati, sinceramente, o quello che c'è nei maschi. Perché è molto più complicato il discorso, naturalmente. E sarà molto difficile anche la qualificazione. Più che altro, per il prossimo European Qualifiers, che porterà al Mondiale 2027, molto probabile, in Brasile. Bene, io chiuso, naturalmente, che dire, vi do l'appuntamento a domani, naturalmente, per parlare della Serie B, per anticipare al turno di Serie B. Commentate questo video, naturalmente, e vi auguro una buonissima serata. Ciao a tutti e tutte!